Penso che quando noi abbiamo avvassato un po' il ritmo di gioco e abbiamo voluto giocare 5 contro 5, contro l'atticicità dell'oro, soprattutto del 5, abbiamo stato un problema, soprattutto nel secondo quarto, le prime 5-6 minuti del terzo quarto. Può essere che la squadra con il 2-8-9 sta un po' fuori del ritmo e questo lo abbiamo sentito. Dopo mi sembra che abbiamo sbagliato alla fine del secondo quarto, mi sembra che 6-8 punti in una partita che chiusa una squadra fortissima come è Venezia, tu non puoi permettere questo. È semplice così, non puoi regalare 8-6 punti in 20 secondi. Questa non la puoi fare ai giocatori professionisti in nessuna maniera e adesso per quello abbiamo perso la partita. Grazie. Grazie.